Amici di YouTube ben trovati con l'analisi della decima giornata della serie di Girone Acqua come di consueto il punto dopo qualche giorno un pochino più a mente più fredda rispetto a quello che è accaduto nelle partite di domenica dove, allora, il Gravina si è fermato ancora, l'ha fatto sul campo della Vultro, un campo che sarà comunque difficile per tutti dove non sarà facile prendere punti, anche se deve ringraziare il super Cirumbriello Cirumbriello che ha parato praticamente tutto, nonché anche un rigore nel finale di partita al difensore schiavino della Vultro un punto initargato soprattutto a Cirumbriello, quello che ha preso il Gravina ed è un punto importante in un periodo in cui la squadra di De Luca non sta dando il meglio di sé fa fatica ad andare in gol, almeno in queste due ultime partite non ha segnato e diciamo che non è, come detto, nel suo miglior momento nonostante questo però, non è nel suo miglior momento, è riuscito a prendere un punto importante anche un punto che fa tornare sola in vetta la squadra di De Luca vista concomitante sconfitta del Trastevere il risultato più importante è sicuramente proprio quello del Bisceglie che ha battuto il Trastevere in una gara con molte polemiche 2-1 al 96esimo il gol di Petta, ex difensore Europa Castelli-Romani che ha dato tre punti veramente fondamentali in quello che è una svolta al campionato del Bisceglie avevo detto anche nella presentazione, nel punto fatto nella scorsa settimana che probabilmente il Bisceglie aveva questa grande occasione per dare veramente un senso al suo campionato e dare una svolta, una vera e propria svolta alla sua stagione fin qui un pochino altanelante che però in quest'ultima fase è cambiata notevolmente e Bisceglie che ha vinto 2-1 con il Trastevere in nove uomini che ha perso quindi i centrocampi di Stifatate e Mastromattei per la prossima partita ha perso anche il difensore Vendetti che era rifiato quindi sarà squalificato perché è stato ammonito ed è un Bisceglie che come detto, essendo uno dei grandi protagonisti che attendiamo per questo campionato chiaramente lo aspettavamo un pochino al Varcon nel caso in cui non avesse vinto questa gara col Trastevere l'ha vinta, ripeto, con un po' di polemiche nei confronti delle elezioni dell'arbitro da parte del Trastevere, però alla fine la risultata è 2-1 quello che conta è il risultato finale, Bisceglie ha vinto 2-1 Bisceglie che così si avvicina notevolmente a due punti alla gravina capolista e a un solo punto dal Trastevere che resta comunque ottimo secondo dopo queste prime dieci partite di campionato bene anche la Nocerina che finalmente torna alla vittoria lo fa anche un convincendo segna finalmente anche Nohman, segna anche Siglari quindi porta bene, va bene per adesso la cura a Simonelli che torna a Nocera dopo tantissimi anni un grande allenatore molto esperto e vedremo se riuscirà a traghettare, a portare questa Nocerina verso la Lega Pro che è l'obiettivo dei Molossi in questo ritorno in Serie D della squadra di Nocera 4-0 ad Herculaneum così come complimenti vanno fatti anche alla Gelbison che continua ad essere una grandissima sorpresa di questo campionato inutile nascondersi insomma questa è una squadra che non può nascondersi nel senso che ha veramente fatto risultati contro tutti praticamente anche contro le grandi adesso perché ha superato la Nocerina domenica scorsa adesso ha vinto anche a Nardò per cui è una squadra che oltre ad essere una mina vagante comincia ad essere veramente una possibile pretendente a una posizione di playoff probabilmente è una sorpresa però va dato l'atto alla squadra di Valo della Lucania che ha 17 punti dopo 10 giornate con risultati veramente importanti contro le grandi e con tantissimi gol segnati sicuramente sono risultati, sono numeri che devono far riflettere sulla bontà di questa squadra che evidentemente l'anno scorso ha sofferto moltissimo per salvarsi l'ha fatto praticamente con un miracolo vincendo i playoff in Sicilia con la Leonfortese e quest'anno invece vuole stare più tranquilla hanno restito una squadra sicuramente più importante e stanno soffrendo meno e la classifica parla per loro male invece il Nardò che non riesce ad avere quella continuità che necessiterebbe nel caso in cui la squadra dovesse, volesse arrivare a qualcosa di più di una posizione di medio-alta classifica Foglia Manzillo sta lavorando bene questo dico da Nardò però ci vorrebbe un pochino più di continuità e dopo la vittoria di Gravina ci si aspettava un Nardò finalmente convincente anche in casa dove invece è arrivata un'altra sconfitta e la quarta sconfitta interna in Casalinga è una squadra che in casa ha sempre fatto del proprio terreno di gioco un fortino sono veramente troppe proseguendo sicuramente bene anche il Manfredonia che ha vinto il derby sul campo e la Madre Pietra per 3-2 una Madre Pietra ancora sconfitta che resta in basso in coda alla classifica il Manfredonia che ottiene la prima vittoria della gestione catalano 6 gol in due partite per il nuovo allenatore 5 subiti dovrà lavorare ovviamente sulla fase difensiva solo stare più attenti nella fase difensiva e subire meno perché è una squadra che comunque è davanti a ottimi giocatori Vedi Malcore Vedi Bozzi per esempio quindi è una squadra che può fare il suo campionato di medio-alta classifica e deve registrare qualcosina nel reparto arretrato prima vittoria interna anche del Picerno finalmente ed era uno scontro diretto importantissimo con Cinzia che si lamenta ancora una volta nei confronti dell'arbitraggio lo fa anche un'intervista di Mr. Ruggetti in settimana Picerno che vince la prima vittoria interna ci voleva perché in casa ha fatto veramente molto male la compagine di Mr. Arleo Cinzia che resta al palo ultima in classifica quindi insieme alla Madre Pietra 5 punti 3-3 scoppiettante tra Agropoli e Sansevero l'Agropoli conferma il suo ottimo momento di forma ma si mangia le mani perché poteva arrivare un'altra vittoria Sansevero ha pareggiato proprio negli istanti finali anche bisogna dire che il Sansevero ha in vantaggio 2-0 poi un grande Tiboni ma soprattutto un grandissimo Chirillo che è uno dei giochi più forti che ho visto in queste prime dieci giornate di campionato avevano dato all'Agropoli la possibilità di portarsi sul 3-2 poi come detto il Sansevero che pareggia nel finale un punto per uno non fa male a nessuno si dice anche se in questo caso fa un pochino male ad entrambe perché l'Agropoli aveva accarezzato il sogno di vincerla e il Sansevero anche poteva comunque portarla e gestirla meglio visto che era in vantaggio per 2-0 dopo una ventina di minuti di gioco l'Anzio batte il Francavilla 2-0 risultato secondo me sorprendente perché il Francavilla finalmente lo attendevo in una possibilità di poter dare continuità alla vittoria in casa col Ciampino e quindi iniziare comunque a mettersi in posizione di classifica differente invece si vede che non è proprio l'annata del Francavilla che ha perso quindi non riesce ad avere quella continuità che l'anno scorso aveva reso una delle squadre più importanti anche tra le più protagoniste della stagione e più sorprendenti sconfitta sul campo dell'Anzio Anzio che fa un altro bel passo in avanti in classifica con questo 2-0 e comincia a dare anche continuità a quelli che sono dei risultati positivi domenica scorsa ha dato un bel pareggio ad Ercolano la vittoria col Francavilla dunque un'Anzio che ha preso bene le misure a questo campionato a questo G1H molto difficile a Rio Nero che pareggia in casa col Gravina un po' di mal di pareggio per la Vultur che anche quando gioca bene soprattutto quando gioca bene dovrebbe portarle a casa le vittorie invece è successo in un paio di circostanze che più del pareggio non si è andato e quindi la Vultur che ovviamente si mangia le mani anche in questo caso per ricorre come detto fallito da Schiavino proprio al novantesimo parato da Cilumbriello del Gravina questo quanto accaduto nella decima giornata di campionato dove evidentemente il Potenza ha vinto anche sul campo del Ciampino con tripletta di Villa una gara che il Potenza ha quasi dominato portandolo a casa con merito il Ciampino da rivedere sicuramente Ciampino e Cinzia Madre Pietra dovranno modificare qualcosa nel mercato invernale se sarà possibile se il budget delle società lo consentirà modificare qualcosa perché altrimenti le difficoltà che si sono viste in queste 10 giornate potrebbero tramutarsi presto in una posizione di classifica davvero svantaggiosa di quanto già non lo è ad oggi però dopo 10 giorni ancora si può recuperare è chiaro che a dicembre quando saremo al giro di Boa queste tre squadre saranno troppo staccate sarà veramente un'impresa cercare la salvezza quindi qualcosa da cambiare per Città di Ciampino Cinzia e Madre Pietra se vorranno provare a salvarsi in questo difficile girone H di Serie D io vi ricordo di iscrivervi al canale YouTube vi ringrazio per l'attenzione su Facebook oppure iscrivetevi al gruppo asterisco asterisco solo calcio rivettanti asterisco asterisco dove trovate tantissime foto notizie video eccetera 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 iscrivetevi al canale YouTube mi raccomando e ci rivediamo poi per il commento all'undicesima giornata della girone H e ci rivedremo anche con i soliti pronostici grazie e ci vediamo su YouTube asterisco